Neanche il tempo di assaporare la vittoria contro Padova che per l'attorno Calipo è ora di scendere nuovamente in campo. Turno infrasettimanale, il secondo stagionale che vedrà impegnati i giallorossi in casa contro una delle corazzate del campionato. Piacenza al momento sesta forza, l'occasione per la prima vittoria casalinga. 23 precedenti tra le due compagini, il bilancio è tutto a favore degli Emiliani con 18 vittorie contro le 5 dei calabresi. La più importante per i giallorossi, l'unica in casa nella stagione 2010-2011. Quello di Arna sarà una gara dei grandi ex. Su tutti Marra che per la prima volta ritrova la sua squadra con la quale sferò lo scudetto nella stagione 2013. A fargli compagnia Capitan Coscione ha piacenza nella scorsa stagione da gran protagonista. Dall'altra parte Tencati, casacca giallorossa nel 2009-2010. Nell'ultima gara la tonno Calipo ha dimostrato grinta, determinazione, lucidità. Tutti elementi che hanno permesso alla squadra di Coach Cantor di non abbassare la guardia. Elementi che ancora di più dovranno essere presenti nel prossimo impegno. Maria Chiara sigillò per l'AC News 24.